allora buongiorno ufficialmente a tutti benvenuti al nostro webinar come dicevo ho pensato per trascorrere un po di tempo insieme in questi giorni decisamente strani e parto anche dal presupposto che oggi ci sono iscritte al nostro webinar persone che sono già certificate hanno già una conoscenza di organ altre persone che invece scopriranno i contenuti di organ spero che per entrambi sia facile da seguire e non noioso ecco soprattutto per per i primi quindi faccio anche una presentazione molto breve di a guerra di me stessa per chi non ci conosce a guerra è una società europea basata in italia è specializzata in talent management assessment development center sia per risorse interne un'organizzazione sia per candidati esterni e siamo distributori organ in italia francia spagna e uk e il team dei consulenti a guerra assistono i loro clienti in quattro lingue e oltre a guerra oltre scusatemi scusatemi oltre organ scusate ho un problema ecco sì qualcuno dice che l'audio è ancora molto disturbato nel senso che non sentite bene la mia voce va e viene perché in quel caso posso provare con l'auricolare datevi un input con la chat se così migliora se così è più arriva meglio magnifico magnifico grazie grazie mille quindi oltre al distributore di altri strumenti di valutazione come assessio kaiser leadership solutions arctic source psi e ndc per quanto riguarda le simulazioni le prove di simulazione oggi il nostro argomento è la l'assessment di personalità e le parole chiave che insomma in qualche modo ritroveremo lungo il nostro webinar sono personalità identità reputazione e autoconsapevolezza strategica e per questo non possiamo non partire citando l'ideatore dei test di personalità che noi di cui oggi parleremo il signor organ che per chi lo conosce sa quanto sia cinico e ci ricorda perché è così importante in fondo studiare la personalità degli esseri umani secondo lui le persone sono la specie la specie invasiva più mortale nella storia della terra hanno il potenziale per uccidere ogni essere vivente in alcuni casi lo hanno già fatto in altri casi sono pronti a farlo e questo ci dà un buon motivo per provare a studiare gli esseri gli esseri umani perché proprio il loro potenziale spaventoso quindi studiare il potenziale degli esseri umani scusate mettete il muto quindi studiare il potenziale degli esseri umani è importante e questo per essere fatto bene è necessario che sia fatto attraverso degli assessment di personalità o degli strumenti di valutazione della personalità più in generale validi in quanto ci permette di avere una fotografia veloce delle caratteristiche delle tendenze di una persona nel caso di organ la fotografia tridimensionale per chi già lo conosce chi deve si sta approcciando adesso la metodologia organ abbiamo tre questionari questo rende il nostro output tridimensionale e quando soprattutto lavoriamo in ambito di sviluppo permette di aumentare l'autoconsapevolezza ossia io sono sono greca e quindi non potevo non citare qualcosa di mio certo nell'intento dei greci ehm la frase aveva eh era più intimidatoria eh perché bisognava i dei ricordavano agli umani eh il le loro aree di eh debolezza per eh per ricordarvi che non dovevano sfidare appunto eh gli umani ehm e i dei scusate ehm bene entriamo nella nostra personalità perché è importante conoscere la personalità nel mondo business allora la personalità intanto una definizione è ciò che distingue le persone tra loro determina il modo in cui eh una persona vede il mondo come interpreta quello che vede cosa lo motiva cosa pensa delle cose che succedono cosa sente come reagisce e determina eh la probabilità che eh di una persona di agire in un determinato modo che è tipica ok di quella persona e lo vediamo in situazioni diverse in altre parole possiamo dire che la che la personalità sono le caratteristiche sistematiche di come quella persona interagisce con il mondo e questo ha un valore informativo eh con con gli altri ma poi perché è così importante studiare la personalità farò un passo indietro ehm nel tempo eh per raccontarvi questo eh ma lo farò cercherò di essere molto breve nonostante gli anni da colmare non c'è audio qualcuno mi scrive mi date un riscontro anche gli altri sono patrizia io ti sento bene ok grazie patrizia a te ok mentre anche noi sentiamo bene grazie ok sento bene ok grazie allora quindi mh il viaggio nel tempo sarà molto breve però c'è un aspetto importante eh che dobbiamo considerare ehm il comportamento umano è basato su degli scopi biologici e questo lo abbiamo fatto da un studio etologico se vogliamo ehm ok non so che cosa sto facendo ehm le persone noi abbiamo osservato nel negli anni che il comportamento umano è di fatto interpersonale sociale e è dalla base appunto di tutte eh le analisi di tutte le società e la civiltà dall'antichità ai nostri giorni sono state individuate tre caratteristiche le persone hanno sempre vissuto in gruppi e questo li rende animali sociali i gruppi hanno una gerarchia una struttura ben definita di potere e e sono solitamente guidati da un leader le persone hanno bisogno di avere un sistema di significato formale per dare eh al mondo un senso come può essere attraverso la scienza la religione eccetera questi sono ehm bisogni inati ossia biologici e determinano i drivers dei nostri comportamenti che nella teoria socioanalitica sulla quale un po' fa riferimento il modello della metodologia Ogan ossia la teoria socioanalitica ci parla di tre drivers quindi il fatto di getting along di andare d'accordo con gli altri visto che siamo creatori di gruppo e viviamo in gruppo e noi esseri umani abbiamo bisogno di legare con gli altri essere accettati e apprezzati sperimentare calore empatia quindi abbiamo bisogno di farlo sia a casa con i familiari con gli amici che al lavoro con i colleghi e sul getting along ovviamente troviamo tutto quello che riguarda la comunicazione le relazioni la cooperazione un altro driver è il getting ahead quindi procedere andare avanti ehm andare avanti ehm scusate ehm scusate le scuole sono chiuse eh e quindi ci sono figli in casa ehm quindi getting ahead procedere andare avanti avere successo con il gruppo e competere con gli altri ha a che fare con il risultato la competizione il potere e lo status e il finding a meaning trovare significato dare significato alla nostra esperienza e il perché facciamo determinate cose le persone hanno un bisogno biologico quindi di struttura di prevedibilità e di ordine eh e questo è centrale per il tipo di decisioni che prendono le persone riguarda proprio lo scopo che noi diamo alla nostra esperienza quindi ehm è importante eh studiare la personalità per capire eh i comportamenti che le persone portano tutti i giorni al lavoro perché questo è il contesto a cui facciamo riferimento ehm è in una in un ambiente che può essere percepito anche come altamente competitivo è necessario trovare un buon equilibrio tra la dinamica complessa del getting along e getting ahead e più eh eh andiamo ehm ehm saliamo la leadership upline ehm questo determina anche lo stile di leadership dei nostri manager e dei nostri executive quindi mh è molto importante offrire la possibilità le persone di ehm ehm di ehm di avere consapevolezza eh di come i loro comportamenti che sono percepiti dagli altri danno risposte su queste e sulla base di questi tre driver quindi studiare la personalità per organ perché ritorniamo sempre su questo argomento non è tanto il fatto di capire la personalità ma noi dobbiamo essere concentrati di di trovare un metodo una valutazione della personalità per prevedere proprio queste differenze individuali e poi si riguardano particolarmente l'aspetto del potenziale le persone per per farlo e come vediamo dalla nostra slide le persone la personalità è alla base quindi delle nostre reazioni interazione ci aiuta a capire le nostre strategie di di business come gestiamo il cambiamento il conflitto le persone e fornisce informazioni sui punti di forza e debolezza del degli individui un aspetto cruciale però nella valutazione della personalità è un qualcosa che può compromettere la validità degli strumenti e questo riguarda proprio la differenza tra identità e reputazione abbiamo detto usate potete mettere il muto grazie la personalità svolge un ruolo centrale abbiamo detto nel determinare le prestazioni del lavoro e l'identità è un aspetto che non ci può dare moltissime informazioni in in questo in questo senso perché perché l'identità e la storia che raccontiamo di noi stessi a noi stessi e la parte generale di una recita che noi facciamo ok è come noi pensiamo di noi stessi come vogliamo che gli altri pensano di noi possiamo raccontare una storia in cui noi siamo protagonisti smart divertenti creativi eccetera e tutto questo è senz'altro meraviglioso e anche molto informativo ci sono elementi chiave in questo racconto di di come quindi uno percepisce se stessi peccato che questo racconto può essere agli occhi degli altri un racconto sbagliato eh in cui ci sono in questo racconto eh molte aree in cui noi fantastichiamo come vediamo dalla nostra slide quindi dove ci sentiamo persone di talento scusate il muto grazie ehm ci sono molte aree dicevo in cui fantastichiamo dove ci sentiamo persone di talento in cui performiamo bene ehm e ci possono essere anche aree in cui noi siamo molto severi con noi stessi e non dovremmo esserlo c'è da dire anche eh anche questo il punto è che ehm l'identità eh è un aspetto eh non ehm non è è una storia non accurata eh di di noi stessi identità e reputazione facciamo chiarezza nel senso che ehm quando noi parliamo di identità parliamo della visione come abbiamo detto che una persona ha di se stesso quindi è la la visione della personalità dell'attore ehm il tu che tu conosci la persona che uno pensa di essere abbiamo detto i suoi desideri e via così come organi si organizza intorno a i tre scopi biologici quindi il getting ahead getting along e giving a meaning della propria esistenza e dall'altra parte abbiamo la visione dell'osservatore eh questo è un aspetto cruciale della teoria socioanalitica lo vedremo eh che parte dal presupposto che ehm la visione dell'osservatore ha un valore importantissimo per autoregolare il proprio comportamento ehm quindi eh la persona che gli altri pensano che la la persona sia si basa questa idea che le persone hanno si basa sui comportamenti questo un altro aspetto cruciale nel senso che quando noi parliamo di eh reputazione in questi in questo periodo spesso le persone pensano che facciamo riferimento a un concept che è arrivato dagli Stati Uniti del momento ha una connotazione negativa solitamente parlando di reputazione bene bisogna ricordare che la reputazione di fatto è una valutazione sommaria delle passate performance che una persona quindi eh mette in atto sul campo come comportamenti durante l'interazione con gli altri eh e questa valutazione sommaria solitamente anche condivisa mh dalla dai membri della comunità eh in cui si muove la la persona e la reputazione si è sviluppata comunque nel corso di migliaia di anni come concetto nell'evoluzione umana perché perché ehm quando noi eravamo gli ultimi dei predatori nella foresta e dovevamo sopravvivere in qualche modo le persone sceglievano un leader quindi una persona che dettava dove andare a cacciare con chi andare a cacciare che cosa avrebbero fatto le persone che rimanevano in villaggio nel frattempo eh sulla base e veniva scelto questo leader sulla base proprio delle sue performance passate quindi sulle osservazioni su questo che le persone avevano fatto del proprio eh comportamento eh quindi eh questo è molto molto importante eh un altro concetto molto importante è il fatto che noi eh non facciamo teoria attraverso gli studenti organ non è questo lo scopo lo scopo è il contesto organizzativo è lo sviluppo è la necessità proprio di ehm di individuare le persone che possono avere una potenziale quindi avere eh una validità preditiva e per fare questo non possiamo basarci sull'identità l'identità abbiamo detto è una storia che un nostro narratore racconta di se stesso ehm ed è empiricamente eh stabilito che questo racconto è poco correlato con i comportamenti passati di una persona addirittura in alcuni casi molto distante e le identità ehm risultano difficili da studiare in modo rigoroso perché sono estremamente soggettive invece quando ci muoviamo nell'ambito della valutazione noi abbiamo bisogno di avere qualcosa appunto che ci consente di dire statisticamente parlando nel mondo della statistica eh che ehm una persona sulla base dei suoi comportamenti già manifestati sarà in grado di in futuro di agire in un determinato modo e questo può essere fatto solo attraverso la reputazione ehm chi è certificato organ eh lo sa molto bene già è il fatto che ehm nella organ ha utilizzato una metodologia che gli ha permesso di mettere a confronto quindi autovalutazioni e come queste persone che avevano compilato i questionari venivano descritti dagli altri ehm e ha eh individuato delle correlazioni statisticamente significative e l'output che i suoi report ci danno oggi è sulla reputazione e non sull'identità quindi come una persona viene ehm viene percepita e viene descritta eh dagli altri Scusate potete mettere il mutuo? Grazie. Ehm quindi la reputazione è l'unico aspetto della personalità che sia misurabile e che ehm che eh che eh che conta eh quando noi facciamo la valutazione eh della personalità. Quindi questo sappiamo che ha anche un'enorme influenza come abbiamo già visto sulla capacità eh di leadership. Lo scopo principale quando ci occupiamo di eh sviluppo degli assessment di personalità ehm organ è il fatto di permettere alle persone di coprire un divario che c'è di un gap che c'è tra identità e reputazione. Quando le persone magari in in alcune sessioni di feedback non si riconoscono pienamente in quello che gli diciamo eh noi certificati organ siamo particolarmente contenti perché vuol dire che stiamo offrendo un punto di vista alla persona eh che non aveva considerato di cui non era consapevole e lo invitiamo a iniziare un'osservazione affinché eh solleciti agli altri un feedback che possa aiutarlo a colmare appunto il divario tra identità e reputazione. Quindi non solo il suo punto di vista che tenderà a spiegare il proprio comportamento ma anche il punto di vista degli altri che gli dicono che effetti ha il suo comportamento. Ehm ma per per organ l'autoconsapevolezza che deve generare eh la sessione di feedback non è un'autoconsapevolezza generale come quella che può essere cercata nei in altri percorsi ma deve essere un'autoconsapevolezza strategica e questo che cosa eh vuol dire? Ehm vuol dire ehm ecco non far emergere emozioni pensieri ok di che sono basati sull'introspezione ma considerare degli elementi che che possono guidare ehm e che possono indirizzare lo sviluppo dei comportamenti delle persone perché tengono conto di tre aspetti importanti. I punti di forza eh e le aree di miglioramento devono essere descritti eh in termini di comportamento perché devono essere misurabili e devono essere eh e quindi soprattutto devono essere osservabili. L'autoconsapevolezza per essere strategica deve considerare i punti di forza e le aree di miglioramento in paragone con gli altri. In paragone in particolare col gruppo di ehm riferimento. Quindi questa visione ha una come immaginate una notevole eh importanza utilità come punto di partenza in ogni sforzo di sviluppo della leadership in quanto costituisce eh la base di partenza per valutare le prestazioni attuali e stabilire un obiettivo per le prestazioni future. Quindi mh è importante eh trasferire eh alle persone alle quale diamo il feedback organ il fatto che l'autoconsapevolezza diventa strategica eh non per una maggiore comprensione di se stessi ma perché sollecitiamo un feedback comportamentale sistematico basato sulle nostre prestazioni da parte degli altri. Un altro punto cruciale ehm quando soprattutto la reputazione al centro dello sviluppo della leadership è che l'autoconsapevolezza strategica deve essere considerata appunto dal punto di vista dell'osservatore. Quindi la reputazione deriva dalla prospettiva degli altri e dal modo in cui questi vedono i nostri punti di forza e le nostre ehm eh aree di miglioramento comportamentali. Quindi come vediamo dalla nostra slide eh non ci sono eh caratteristiche buone o cattive in assoluto ehm ma ci sono ehm aree di forza e aree di miglioramento specifiche per quel contesto e specifiche dalle aspettative degli degli stakeholders che sono coinvolti in in quel momento. Quindi questo è molto importante per poter aiutare le persone a capire le aree di miglioramento, quanto sono collegate al momento storico attuale, a quel contesto lavorativo, rispetto a quel modello di competenze e alle aspettative di quei determinati stakeholder. ehm questo è molto importante perché diamo per scontato che le persone hanno le competenze tecniche ma sulla base di che cosa devono fare devono anche saper ehm tenere in considerazione il feedback che ehm ricevono per poter meglio capire le eh le altre competenze necessarie da mettere in campo per eh per rendere i loro comportamenti più efficaci rispetto al risultato. Eh ovviamente questo vale per l'individual contributor soprattutto vale per le per i decisori se vogliamo che attraverso il loro comportamento possono eh accelerare il raggiungimento di risultati. Quindi ehm eh questo per ricordare quanto i comportamenti appunto sono acceleratori di risultato e di conseguenza nel mondo del business di profitto. Bene eh organ abbiamo detto modello tridimensionale eh che ci dà eh indicazioni di reputazione. C'è una norma globale eh che eh nell'elaborazione dei dati di qualsiasi report viene elaborato tiene conto appunto di algoritmi che ci consentono di avere eh l'output in termini di reputazione e non di identità. Eh Hogan sviluppa la sua metodologia a partire dal millenovecento ottanta una ottantasette eh abbiamo più di trent'anni di ricerca con con team di ricercatori dedicati eh alla alla manutenzione e continua attenzione nella nell'arricchimento degli strumenti eh e eh appunto il l'output e la reputazione. Hogan si è occupato anche di raccogliere dati nel tempo per poter dimostrare il ritorno dell'investimento di una società che utilizza la metodologia Hogan sia per quanto riguarda la riduzione del del tasso di turnover e ehm la scelta eh migliore di persone che eh riescono a performare meglio in determinate ehm in determinati ruoli. Grazie. 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 Grazie.